Servive è derivata la boccata d'ossigeno per il Gravina, un gol fortunoso di Bruno nella ripresa e il giusto coronamento di una partita ben giocata dal collettivo di Raimondo Catalano. Piegata la resistenza del fanalino putiolana, con i Murgiani che restano in zona play-out in un lungo treno salvezza, ora con 7 squadre raccolte in 6 punti. A Pozzuoli, Catalano dà continuità al 3-5-2 alla coppia Tonso Prado in attacco, in Tinacelli esterno-sinistro con Parisi a destra, panchina per l'acciaccato Carmud. Stesso modulo anche per la putiolana di Salvatore Marra, con rabbeni e romeo terminali offensivi. Bene il Gravina in avvio, punizione di Coppola, Lamberti osserva la palla finire sul fondo. Ben più pericolosa la chance che capita sulla testa di Tonso, colpo non propriamente dal suo repertorio e sfere in angolo. Mette la testa avanti anche alla putiolana, sventola di Gatto, bravo Mascolo in tuffo. Catalano perde Prado e Curvino, dentro Bruno e Goretta. Meriterebbe qualcosa in più il Gravina. Nel recupero della prima frazione, Coppola raccoglie e calcia, ma Lamberti con un super riflesso cancella un gol già fatto. Conto aperto con la porta di Lamberti per Coppola. Qui bel diagonale, ma il vantaggio è solo un'illusione ottica. La clamorosa palla per l'1-0 è di marca campana. Greco fa tutto bene, Mascolo Mura, sulla palla vagante da centro aria, Rabbeni non si sa come calcia alto. Gol sbagliato, gol subito. Passato lo spavento, il Gravina al 64esimo trova l'episodio che decide la partita. Corner dalla sinistra, palla che carambola del Granata, Avella e Bruno, diventando imparabile per il fin qui insuperabile Lamberti. Vantaggio nel complesso meritato per il giallo-blu, che nel finale corrono solo un reale pericolo, ovvero questo tiro proprio di Avella, murato con la mano dal nuentrato Tommasone. Tocconetto, ma giudicato troppo ravvicinato dal signor Papi di Prato. Poi è triplice fischio, il Gravina sbanca il conte e rilancia la propria candidatura per la salvezza diretta, distante solo due punti. Nel prossimo turno al vicino sarà scontro diretto con il Molfetta.